Bella ragazzi, qua Ghiotto, giorno dopo Bologna-Lazio, ora di fare un'analisi e anche per la prima volta un piccolo bilancio di questi tre mesi con Sarri, perché oggi 4 ottobre praticamente sono tre mesi di lavoro di Sarri, luglio, agosto, settembre e possiamo dire che il bilancio ad oggi non è proprio positivo, ovviamente non è una sentenza questa analisi che io farò oggi, anzi si sapevano delle difficoltà iniziali, almeno io lo ero consapevole che ci potevano essere quasi sicuramente, speriamo di migliorare, ce l'auguriamo, dobbiamo farlo. È una giornata anche un po' drammatica per quanto riguarda la mia regione, non tanto dove abito io in questo momento, io qua sono tranquillo, addirittura adesso sta smettendo di piovere ma dovrebbe arrivare una nuova bomba d'acqua nella serata, ma la Liguria è di nuovo vittima di queste alluvioni, ormai una volta l'anno accade, ci vorrebbe più prevenzione, ma adesso non è il luogo e il video per parlarne. Comunque ragazzi, mettiamo un like di incoraggiamento anche appunto ai miei compaesani e alla mia regione e a tutta Italia, perché poi sicuramente adesso io non lo so se l'alluvione ha colpito solo nello specifico questa zona qua, ma forse sì, però comunque è una cosa che purtroppo col clima che sta cambiando, un clima sempre più tropicale, andiamo incontro ogni anno un po' in tutta Italia. Comunque parliamo della Lazio, allora oggi ho fatto le pagelle su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi, link è in descrizione, c'è anche 6 calcio, se volete acquistare maglie da calcio anche della Lazio trovate il link qua sotto, ovviamente ho dato tutte insufficienze, direi di sì, ho dato anche dei 4, dei 4 e mezzo, insufficienze molto gravi, ma è doveroso dopo un 3 a 0 netto col Bologna, che era una squadra anche comunque in difficoltà, ok? Non era una squadra che stesse benissimo. Comunque, questi tre mesi di Sarri, allora, se diamo un'occhiata alla classifica, che io non mi interessa relativamente, la stavo guardando poco prima e la guardo poco adesso, perché comunque teoricamente siamo a 4 punti dal quarto posto, nulla da dire, non è che dobbiamo fare una rimonta incredibile, perché poi il nostro obiettivo è arrivare qua. Anche se io quest'anno ero partito con queste premesse, di non guardare troppo la classifica, ma di guardare il percorso di crescita, il gioco che riusciremo ad esprimere, la crescita di alcuni giocatori, perché con Sarri si è avviato, teoricamente, se tutto va bene, un progetto a lungo termine. Quindi dal prossimo anno, se vedrò ancora la Lazio che gioca così, non sarò contento, sarò più disfattista. Invece ad oggi dico, la classifica la guardo, la prendo con le pinze, ma i problemi sono altri, ok? Il bilancio per adesso sono tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, che sono già troppe due sconfitte, tra l'altro nette con Bologna e Milan, siamo troppo fragili, ma questo è un problema che abbiamo da quando tifo Lazio. Fragili mentalmente, difensivamente, ci sono tanti aspetti. Io su Instagram vi ho anche chiesto, secondo voi, qual è il problema di questa Lazio, molti mi hanno detto la stanchezza, problema mentale, la difesa è scarsa, Sarri non va bene, quindi c'è un po' di minestrone. Io oggi ho dato un'occhiata al video che ha fatto alcuni miei colleghi, Vittorio Campanile, oggi, ieri quello di Giovanni Stramace, e loro hanno parlato più che altro di un problema mentale. Ma sarebbe riduttivo ridurre, scusate il gioco di parola, una sconfitta così fragorosa e comunque un avvio di campionato un po' titubante al solo problema mentale. Perché se fosse solo mentale e il problema è stato individuato, perché anche Marco Parolo ha rilasciato delle dichiarazioni, ha detto c'è un po' questo problema, magari di troppa euforia, ci manca continuità. Voglio dire, io da quanto tifo Lazio non si è mai fatto nulla per ovviare a questo problema. Io capisco che la piazza di Roma è particolare, dopo il derby l'entusiasmo, ma se fosse solo quello che dopo il derby si perde una partita, è già capitato altre volte, io me lo ricordo, ma il problema è che non è dopo il derby. Nell'arco della stagione noi abbiamo tanti cali quasi improvvisi e veramente preoccupanti. Ce l'avamo con Izaghi, con Pioli, con Petrovic, con Sarri. Quindi non possiamo neanche dire che adesso è un problema di Sarri, nel senso che deve trovare la quadra e ci metterà un po'. Quello è un aspetto da considerare, già che vi avevo già preventivato, previsto, quest'estate. Però è proprio una caratteristica della Lazio, ok? Che abbiamo questi cali improvvisi. Nel caso specifico di ieri, sicuramente il problema mentale c'è, c'è da anni. Io non so se non si sta facendo nulla per migliorare, perché se il problema è stato individuato e bisogna fare qualcosa, un mental coach, non lo so, non lo so cosa, io non saprei, però bisogna lavorare su quello, se il problema è quello lì, perché comunque ne abbiamo bassato l'attenzione. Cioè io mi accorgo che noi, dopo che battiamo magari una big, la partita dopo spesso facciamo delle figuracce. Giovedì abbiamo giocato bene, ma magari poi subito dopo, in questo caso con la Bologna, cadiamo e cadiamo male. Ma tante volte è successo, ragazzi. Quindi io ho la sensazione che i giocatori della Lazio e un po' tutto l'ambiente, dopo che vinci con una big, si credono imbattibili, cali la concentrazione e in un calcio che si deve correre, si deve essere concentrati sempre di più, un calcio dinamico, agonistico, fisico, sempre più fisico. Se tu cali un pochettino, perdi. Perdi con lo Spezia, col Bologna, col Sassuolo, con la Juventus. Poi è normale che, quando affronti una grande squadra, le motivazioni arrivano da sole. E Sarri l'aveva detto. Ha detto, è facile preparare una partita come il derby, ma è difficile tenere le stesse motivazioni in continuità. Perché chi tiene le motivazioni alte, 35 partite su 38, probabilmente vincerà lo scudetto. Non è il nostro obiettivo, ma così non arriviamo neanche ai quarti. Ma neanche in Europa League, se continuiamo così, ragazzi, occhio. Però, secondo me, non è solo un problema mentale e, ripeto, speriamo che ci si lavori su questo problema psicologico. Ma, ragazzi, c'è il problema difensore, secondo me. Io quest'estate ve l'avevo detto, cioè, il mercato che ha fatto la Lazio è un buon mercato, non è un cattivo mercato, anche con pochi soldi, perché poi l'era del Covid, il calcio, il movimento calcio, ha tanti problemi economici. Tutte le squadre, tutte le squadre hanno problemi monetari. Però, ragazzi, era lampante, che già eri scarso in difesa. Da anni è essere scarso in difesa. Perché anche quando siamo arrivati quarti, addirittura, se non interrompono il campionato, magari arriviamo secondi con Inzaki, la difesa comunque qualche lacuna ce l'aveva. E non hai fatto mai un cazzo, scusate il francesimo, ma quando ce l'ho, ce l'ho, per migliorare sta cazzo di difesa. Cioè, l'anno scorso, chi abbiamo preso? Wesley Hood. Cioè, un pacco che abbiamo dato via, l'abbiamo ripreso dalla disperazione. A gennaio, chi abbiamo preso? Musacchio. Cioè, tutti acquisti estemporanei. Quest'anno, chi abbiamo preso in difesa? Nessuno. Ci abbiamo cercato di reintegrare Vavro. Cazzo. E non è un problema solo che si è denotato ieri. Il problema difensore c'è da sempre, perché Luis Felipe, mi spiace dirlo, ma l'abbiamo capito, che non è da Lazio. Non è da Lazio se vogliamo arrivare quarti. Il problema è che noi, parliamo solo dell'era Inzaghi, infatti ci siamo arrivati una volta quarti. E un motivo c'è. È chiaro? Luis Felipe, poi, io continuo a dirlo, potenzialmente, ha delle potenzialità, può crescere, ma evidentemente, mi sbaglierò anch'io, non lo so, evidentemente non ce l'ha, o non cresce o magari nella difesa 4 evidentemente non è adatto. E questo già aveva un po' paura, perché lui è un giocatore molto veloce che nel braccetto di destra nella difesa 3 renda abbastanza, però deve essere aiutato dagli altri. Perché se lasciamo marcare Luis Felipe, ieri è stato lampante, ma quanti errori ha fatto? Si è fatto fregare da Joe Pedro, Coltorino ha concesso diverse occasioni, ieri marca due metri, concede il destro a Barrow, capito? E a Cerbi, io con tutto rispetto, al di là della cazzata che ha fatto, è l'ombra di se stesso. È due anni che è l'ombra di se stesso. Ci sta, la difesa 4 anche per me, secondo me, non lo aiuta, parliamoci chiaro, è molto più bravo anche lui nella difesa 3, giocare da centrale, è bravo a impostare, però in marcatura, così anche quando trova un attaccante fisico, fa un po' fatica, l'età avanza, ci mancherebbe, quindi non c'è più a Cerbi che ti salva la baracca. Quindi il problema difensore c'è, e si sapeva. Il problema è che non si fa mai nulla per ovviare a questo problema. Quindi c'è anche un problema, diciamo, tecnico, ok? Poi, ieri sicuramente, c'è stato degli errori anche tecnico-tattici di Sarri di gestione, perché Sarri costruisce bene, nel senso che lui col lavoro, io sono convinto che la Lazio arriverà a giocare bene a vincere, però non sa leggere le partite, o mi sembra quasi che non voglia leggere le partite, cioè che non va mai oltre ai propri schemi, a parte nel derby. Però il derby è una partita a sé, capito? Il derby è una partita che tanti giocatori si sono presi delle responsabilità in più, hanno preso l'iniziativa, la difficoltà è riproporre la stessa mentalità del derby, non dico sempre, però in partite così, col Bologna, ed era doveroso, perché era una partita importante, adesso c'è la sosta, quindi era importante ieri fare una buona prestazione e strappare almeno un punticino, è chiaro, sicuramente perdere così non era, non è accettabile, non era preventivabile, e per me non è accettabile per il livello che ha raggiunto la Lazio. Tornando a Sarri, allora, col Milan abbiamo giocato male, dal primo all'ultimo minuto e non ha mai cercato di cambiare le carte in tavola. Con il Torino, anche, e poi ieri anche. Cioè, capisci? Sarri, io capisco che tu sei fissato con i tuoi schemi, col lavoro ci arriverai a raggiungere certi tipi di risultati, speriamo, o magari non ce la farai, perché vuol dire che la squadra non è adatta a te. Però a partita in corso, cazzo, ieri, si vedeva che gli esterni non riuscivano mai a saltare l'uomo a andare sul fondo. Cerca di proporre magari le sovrapposizioni dei terzini, o magari, non lo so, alzami l'inco, dilli, Sergei, vai più vicino a Murici. Cioè, piccole cose, o magari mettere due punte, non nel caso di ieri, ma nel caso di altre partite, perché Immobile era troppo solo. O magari, Peter, Felipe e Andres erano spenti e butta dentro More e Romero, che sono giovani, sono pazzi, magari accendevano la luce. Quindi, ad oggi, Sarri non sta lavorando bene. È chiaro? Cioè, io sono fiducioso, è tutto. Però, bilancio il 4 ottobre, Sarri non sta lavorando bene. È chiaro? E poi, il problema difensore c'è e il problema mentale c'è. Quindi, io penso di avere ben chiaro la situazione Lazio. C'è un problema fondamentale di di Rosa, chiamiamolo così, tecnico, che manca un difensore forte, e se mi guardo indietro in panchina non c'è nessun altro che possa, chissà, magari un giovane che possa crescere. Non c'è. Il problema portiere, che non ne ho parlato oggi, ma già ve l'avevo detto, che Reina, sì, va bene, è un leader e tutto, però ragazzi, se vuoi arrivare quarta con Reina non ci arrivi, secondo me. Vedendo anche i portieri che hanno le altre, la Fiorentina Drogoschi, la Roma Rui Patricio, l'Inter comunque Andanovic, il Milan Mainian, lasciamo perdere, il Napoli comunque, sono superiori a Reina, non di valore assoluto, ma attualmente, è chiaro. Quindi c'è un problema di rosa e di mercato buono, ma mancato in alcuni reparti, problema mentale c'è, e poi c'è il problema che ad oggi Sarri non sa leggere le partite, sembra resti io a cambiare le carte in tavola, ed è doveroso farlo, perché in alcune partite, secondo me, magari non ieri, ma col Torino, anche con lo stesso Milan, sull'1-0, si poteva recuperare magari la partita, e non si è voluto farlo, quindi bisogna anche a volte avere l'intelligenza di andare oltre ai propri schemi, alle proprie idee, è chiaro? E poi, attenzione, anche un'altra lettura che do, è che se Sarri si accorge che la squadra non è adatta a questo tipo di gioco, converrà magari giocare un po' più verticalmente, ad esempio, come nel derby? Non lo so, questo è un punto derogativo che vi lascio, vediamo con il susseguirsi del campionato cosa accadrà. Ad oggi, sicuramente, il bilancio non è positivo, ma fiducia nel lavoro di Sarri e nella squadra, ok? Signori, like al video, commentate, iscrivetevi, bello!